Senza rancore. Io non ho rancore. 1968. Qualche volta odio. Tonino Cervi, figlio del celebre attore, dirige e scrive in collaborazione con Dario Argento Si ricorda qualcosa. Un western innovativo e scenografico. Eccellente arma. Per il ciclo Italian Cowboy. Posso muovere le mani? Pochissimo. Bud Spencer. E lentamente. Oggi a me, domani a te. Questa sera alle 21 con Iris. Grazie a tutti.